Purtroppo i pezzati piccoli sono già tutti presi, ma venga, 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 lei è fortunato, ne è rimasto uno doppio, luminoso, confortevole e spaziosissimo. Prego, prego, prego. Contento? Bello, l'ingresso è bello. Ingresso, soggiorno pranzo, letto, cucinotte, waterclosed, è tutto qui. È il risultato di accurate ricerche a dimensione d'uomo, guardi qua. Angolo cattura, angolo intimo, angolo doccia con relativo spogliatoio, angolo ricreativo, angolo tv, angolo telefono con sediolino incorporato pronto, angolo pranzo cena, con sedie ribaltabili. E l'angolo letto? A letto ci si va dopo cena, no? Eh sì. Guardi, eccolo qua. Che ne dice, eh? È bello e funzionale e poi è leggerissimo. Ecco fatto. E la finestra non c'è? Sorpassata. Venga, venga, venga qua, guardi. Questa è l'aria calda, qui c'è l'aria fredda, questo è il deumidificatore. Che se ne fa della finestra? Beh, niente. Soddisfatto? Eh sì. Sì. Tenga. Grazie. Ah, un'avvertenza, siccome i vicini odiano i rumori, la prego di non dare qui dentro ricevimenti, congressi, feste da ballo. Senz'altro. Senta, mi deve come cauzione un mese anticipato, 50.000 al giorno fa un milione e mezzo. Eh, così tanto. Prego. Questo è un milione? Sì, ho detto un milione e mezzo. Questo è mezzo? Sì. Più 200.000 per il deposito delle bollette luce e telefono. Ecco. Sono 300.000. Più 79.000 come canone della televisione. Vabbè, comunque mi deve... Più 150.000 per eventuale trasporto. Trasporto di che cosa? Trasporto funebre, non so. Faccio il caso che le venga un colpo, una trombosi, un infarto. Ma chi la trasporta? Ma tieni soldi anche lì? No, no, mi sto toccando pescare amanzia. Mamma, lascia perdere, non mandarmi niente. In città mangiamo in un modo diverso, più pratico, più vitaminico. Anzi, adesso ti devo salutare perché vado a preparare il pranzo. Ciao. Ciao. Ecco qua, tavolo ribaltabile. Tac. Sedia rotante. Tac. Posto per commensali che non ci sono. Tac. Tovagli a metro. Tac. 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 Piatto Fabriano. Tovagliolo extra strong. Bicchiere di plastica. Tac. Vino cartonato. Tac. Spaghetti pronto uso. Contorno sul gelato. Tac. Tonno e grissini per tagliarlo. Tac. Tac. Questa sì che vita. Tac. Tac.